Valentina! Valentina! Vala, allora ci vediamo in giro. Tanto il quartiere è quello. Ma sì. Arrivederci. Arrivederci. È come una botta. E che botta! Sì, ragazzi, basta! Altrimenti vengo ormai e mi faccio neri! Ma come cinque figli? Che cosa fare? Voglio che quella donna meravigliosa diventa la compagno della mia vita. Coup de fudre a Naples. tutti i mardi a 21 ore su Oro Channel. Grazie per la visione! Grazie a tutti!